Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sulla statale Trebbis-Tiberina a scambio di carreggiata tra i chilometri 142.800 e 146.500 con chiusura dello svincolo di Madonnuccia in entrata e uscita in direzione Ravenna. Sulla statale 223 di Paganico, dal lunedì senso unico alternato tra Lampugnano e Civitella Marittima in provincia di Grosseto. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, per il crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!